Ciao a tutti e benvenuti su Espo un video! Questa è una nuova lezione di vocabolario e oggi parliamo di... Numeri da 31 a 40. Grazie mille per aver visto questo video! Qui potrete trovare la playlist con tutte le altre lezioni sul vocabolario italiano e noi ci vediamo alla prossima! Grazie a tutti!